Look at me Look at me Look at me Esclusivo, elegante, sorprendente, molto molto di moda Look at me è il partidiato da Look, il magazine free press di moda e tendenze insieme a Radio Stereo Città Un binomio vincente per creare grandi eventi nei locali aperitivo più belli e frequentati del Veneto La nuova tappa del tour Look at me arriva a Treviso In una splendida location, l'IF che si trova in zona fonderia Look at me Look at me Da Danievo Presente Here we go Look at me è il tour organizzato dalla Magazine Look in collaborazione con Radio Stereo Città Un tour che tocca ai luoghi culto dell'aperitivo in Veneto IF arriva alla conclusione di una stagione indimenticabile che ha avuto nell'aperitivo della domenica uno dei suoi appuntamenti più riusciti La musica è curata da Daniele e Danieli che sa alternare con sapienza i successi degli ultimi 30 anni accostando con gusto Atmosferi 80 ai successi più recenti o alle hit del decennio 90 Siamo con Daniele e Danieli, questo è il grande aperitivo IF La musica di IF, quale sound suoni? Ma è la nostra musica felice È la musica a 420 gradi Ma non è a 3,60? A 3,60 A 3,60 Vedi, allora qui l'aperitivo è davvero bellissimo Grande atmosfera Il segreto dell'aperitivo IF Ma il segreto è semplice È l'atmosfera che si crea tra amici Ed è il divertimento puro, sano e divertente Bravo Grande Daniele e Danieli Ricordatevi l'aperitivo IF Solo a Treviso Forza Mila No, ma come Forza Mila Durante la serata ha distribuito anche il nuovo numero di Look Che molti hanno sfogliato già all'interno del locale Siamo con Luca Duse della rivista Look L'aperitivo si trasporta in questo caso a Treviso Una splendida location Look in Tour continua però anche nelle prossime settimane Assolutamente, come vedete Look at Me è arrivato al terzo appuntamento Siamo qui a Treviso, uno dei migliori locali della marca trevigiana Voglio darvi anzi una notizia in anteprima Look espanderà la sua comunicazione anche con Look Live Ad altri tre appuntamenti molto importanti nel Veneto Il più vicino, la fiera campionaria, sarà l'Haus Organum della fiera Fiera più importante che ha catalizzato più di 150.000 visitatori lo scorso anno Altro evento fondamentale per, diciamo, una visibilità a 360 gradi L'Eineken Jamming Festival, oramai al quarto anno Avriamo l'onore per il secondo anno di essere il giornale ufficiale di questo evento Importantissimo per la musica, lo spettacolo, la mondanità E il vivere con leggerezza un evento musicale tra i più importanti in Italia Terzo evento sarà la fiera campionaria ad ottobre Comunque ci saranno molti altri aggiornamenti prossimamente della rivista Magazine Basta prendere Look, naturalmente lì ci sono tutte le informazioni Per vivere non solamente il giornale ma anche gli eventi curati da Look Assolutamente, vi aspettiamo numerosi a tutti i nostri eventi di Look at Me Un saluto a tutti e a presto Ciao, grazie Il tour è realizzato in collaborazione con Radio Stereo Città Che ha nel suo DNA un rapporto stretto con il mondo dei locali e dell'intrattenimento Siamo con Cristian Salvanin di Radio Stereo Città Il tour di Look continua, questo ottimo sodalizio tra radio e magazine Confermo, anche perché abbiamo scelto un'altra location speciale all'IF questa sera Per l'ultima serata dell'aperitivo a Treviso Abbiamo fatto delle belle tappe insieme e siamo decisamente contenti Anche perché stiamo aspettando l'estate con trepidazioni Visto che il sole ci ha accolto un po' impreparati Adesso stiamo già preparando una bella estate, bella cicciotto Per quanto riguarda il suo delizio, Look naturalmente a Treviso Città Continuerà anche nei prossimi mesi Mi sembra il metodo giusto per tanti locali che hanno voglia di vivere questo tour Prendere contatti per avere Look e Treviso Città nei loro locali È un'ottima occasione per dare visibilità agli aperitivi, alle serate Una rivista sicuramente al di fuori della commercialità Perché è una rivista che accoglie la moda E quindi chi vuole farsi vedere è un buon veicolo Una radio dove ormai ci sono tutti i locali che fanno tendenza Fanno vedere quello che veramente è il modo giusto per vivere la notte Quindi insomma, un matrimonio bello riuscito Grazie mille Cristian Ciao, buon divertimento a tutti If zona fonderia a Treviso Look at me Look at me